Allora, buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova video lezione della UNISAG che ha come protagonista Sant'Antonio Abate, Sant'Antonio il Grande, detto anche il padre di tutti i monaci che è poi fondatore del monachesimo orientale, ma ha rappresentato per molti aspetti anche un punto di raccordo, un anello di congiunzione con la tradizione del monachesimo occidentale che si svilupperà un secolo, due secoli dopo. Parleremo oggi, soprattutto mi è stato richiesto da parte del nostro ordine antoniano, della vita ovviamente e della la teologia spirituale di Sant'Antonio Abate. Teologia spirituale, come ricordava sempre il cardinale Spidlich, è già un termine che di per sé è esaustivo in qualche misura, no? Teos, Logos e Spiritus. Sono tre concetti che abbracciano, oltre ovviamente alla struttura trinitaria, tutto quello che è un po' l'essenza, l'ontologia di ciò che noi consideriamo efficace per la nostra componente di fede, soprattutto per la nostra componente di tradizione ortodossa che è così legata alla spiritualità del secondo e del terzo secolo. E quindi oggi affronteremo un po' il tema della vita che noi conosciamo soprattutto attraverso il Vescovo Atanasio, Atanasio Alessandrino, e di queste specificità della spiritualità antoniana che ancora oggi possono rappresentare per noi soprattutto nell'ambito della teologia, diciamo, ortodossa antoniana, dei capisalli, dei punti di riferimento, degli assoluti, diciamo, imprescindibili, in qualche modo non negoziabili. Ecco, per usare un termine diciamo della modernità. E come dicevo, la vita, la vita di Antonio noi la conosciamo in modo particolare attraverso la biografia che Atanasio, Atanasio Alessandrino, Atanasio di Alessandria, ve lo ricordate sicuramente, una figura di cui abbiamo già parlato a proposito dell'eresia ariana, no? e intorno al 360-350 scrisse, riferendosi in modo particolare ai monaci, indirizzando questa biografia a tutti i monaci del mondo, in particolare a quelli che vivevano fuori dall'Egitto, in cui si riassumeva in qualche modo la vita di Antonio il Grande, fornendo però degli ammaestramenti, delle indicazioni, delle risoluzioni teologiche e spirituali valide universalmente. Ecco, questo fu un po' l'obiettivo che Atanasio individuò. Ora diciamo che una cosa sorprendente che ci colpisce subito della vita di Antonio il Grande è, diciamo, la sua collocazione storica. Quindi Atanasio nasce, come sapete, in un sobborgo egiziano che la maggior parte dei biografi riconduce alla vecchia città di Heracleopolis, no? Cora, che era una città dell'Egitto in cui tutto sommato vienono delle memorie estremamente importanti, estremamente forti della civiltà egiziana, che come sapete è una civiltà che dal punto di vista religioso, spirituale, aveva fornito un universo di simboli, di concetti già fin dal terzo millennio a.C. Quindi una tradizione ricchissima di segni, di testimonianze, di, diciamo così, vestigia dell'impero dei faraoni, no? E nasce nel 251 e muore, secondo la tradizione, nel 354. Quindi già questo primo aspetto, e chiunque di voi ne coglierà, diciamo, il carattere, diciamo, sorprendente. Quindi Antonio sarebbe vissuto più di cent'anni. Ecco, sarebbe morto a 104 anni. E questo, secondo alcuni, è riconducibile un po', diciamo, al suo, quello che oggi definiremmo lifestyle, no? Uno stile di vita molto essenziale, con un'alimentazione, diciamo, ricca delle cose fondamentali, che escludeva in radice ogni superfluità. L'ambiente, l'ambiente in cui è vissuto, un ambiente estremamente disagevole per la stragrande maggioranza delle persone normali, tra virgolette, ma straordinariamente ricco, e in qualche misura salutare, come vedremo. Quindi già questo fatto della morte ultracentenaria di Antonio ci fornisce già qualche elemento di riflessione, perché è evidente che in un contesto storico geografico, in cui l'età media era di circa 40 anni, e pensate che in Egitto si viveva una media di 35-40 anni. Poi, per carità, nella lunghissima storia delle dinastie faraoni, che c'era stata qualche eccezione, ma davvero sono dei rompicapi genetici, no? Per esempio, Ramesse II, tutti voi conoscete il più grande faraone della storia egiziana che sconfisse i titi a Kadesh, no? Siamo nel XIII secolo a.C., visse 88 anni, 88 anni. E anche qui aveva una connotazione, diciamo, soprannaturale questa così lunga esperienza di vita. Pensate che Ramesse II, aveva 120 figli e 4 mogli, però poi si scoprì attraverso la genetica che il suo DNA non era egiziano. Arrivava probabilmente dal patrimonio, diciamo, da un bagaglio cromosomico genetico caucasico. Questo si è scoperto proprio negli ultimi dieci anni. Aveva i capelli biondo-rossicci, era alto, tra l'altro la sua mumia è conservata benissimo, però infrangeva comunque una regola generale che era una durata di vita media di trenta, cinque, quarant'anni. Difficilmente si arrivava a cinquant'anni. E quindi Antonio il grande psicologo in questa tradizione, diciamo, di rottura, di eccezionalità, di sovranaturalità dell'età, diciamo, e degli anni della sua vita. Allora, dicevamo che fu Attanasio a descriverci in modo minuzioso quella che è la vita, la vita di Antonio. Antonio era di famiglia nobile, genitori erano nobili, erano anche abbastanza ricchi, erano cristiani. Per cui Attanasio ci puntualizza, ci precisa che comunque fu allevato nella fede cristiana. Era certamente da ragazzo, da adolescente, un ragazzo particolare, non amava studiare, non volle mai apprendere le lettere. Ecco, era estremamente misantropo. Questo è un dato specifico che ci fornisce la biografia di Attanasio. Non voleva frequentare, non voleva stare in compagnia degli altri ragazzi, non voleva frequentare la scuola. Tutto quello che voleva era di rimanere a casa sua, rimanere in casa sua, nella semplicità, come un po' come Giacobbe, come la figura tratteggiata nell'Antico Testamento di Giacobbe. Aveva con i genitori un rapporto di forte sottomissione, di forte subalternità. Ecco, non era sicuramente un ribelle. Leggeva, leggeva sicuramente, ma ne conservava, ne custodiva, diciamo, il frutto nel suo cuore. Non aveva un'attitudine diciamo divulgativa. Non cercava godimento nel cibo. Ecco, si accontentava proprio di quello che, di quel poco che trovava. Non chiedeva nulla di più. E questo ovviamente in una famiglia ricca, in una famiglia egiziana nobile, non poteva che rappresentare un elemento di singolarità. E a un certo punto muoiono i genitori e rimane a 17-18 anni orfano, orfano di entrambi i genitori. E ha una sorella che è molto piccola, che ha 5-6 anni, e quindi deve prendersi cura della casa, dei genitori e della sorellina. Però, sei mesi dopo la morte dei genitori, lui stava andando in chiesa, meditando tra sé e sé, e giunse alla determinazione di, come dire, abbandonare tutte le sue eredità, tutti i suoi beni materiali, donarli a chi aveva bisogno e riporre quindi la speranza nella beatitudine dei cieli. E proprio in quel momento, entrando in chiesa, sentì che, diciamo, nella predica c'era il famoso passo del Vangelo, in cui Gesù dice al ricco, se vuoi essere perfetto, vai, vendi tutto ciò che possiedi, dallo ai poveri, poi vieni, seguimi e avrai un tesoro nei cieli. Questo passo evangelico famosissimo, che proprio mentre entra nella chiesa in cui si stava svolgendo la liturgia della parola, Antonio rimane sbigottito, e quindi è come se vi fosse un segnale divino, un ricordo che gli fosse venuto da Dio stesso, e immediatamente uscì dalla chiesa, questo ci racconta Atanasio, e andò a casa, fece un inventario, donò tutti i suoi beni ereditari che aveva avuto dai genitori, e si parla comunque di molti ettari di terreni fertili, e ne ricavò, diciamo, una piccola somma di denaro, perché poi, per pensare alla sorellina, vendette anche qualcosa. la diede ai poveri, e ne lasciò una piccola parte, appunto, per evitare alla sorellina, che era ancora piccolissima, la, diciamo, tragedia di rimanere sola e senza alcun sostentamento. Poi c'è una famosa frase evangelica ulteriore, che lo colpi molto, che è quella del non preoccupatevi del domani. Ecco, lui affida la sorellina a delle vergini fedeli, a cui lui la lascia affinché fosse allevata nella verginità, e inizia un percorso di ascesi. Ecco, in quel momento siamo intorno al 270-280 d.C., in Egitto non c'è ancora una, come dire, cultura cenobitica, ascetica, non ci sono ancora dimore, diciamo, di solitari, e non c'è ancora la, come dire, forma peculiare di, come dire, di habitat del monaco, che è il deserto. Chi voleva in qualche modo vigilare su se stesso, stare, diciamo, in solitudine, si dedicava all'ascesi, alle pendici, alla, diciamo così, quella che oggi potremmo chiamare nelle periferie, ecco, nelle periferie del villaggio. Lui fa così, però conosce un anziano saggio, va a cercarlo disperatamente, perché gli avevano raccontato che era una persona che aveva una forte carica spirituale, che era in grado di offrirgli degli insegnamenti, e in effetti questo anziano aveva, diciamo, consegnato la propria vita allo sforzo ascetico totale, cioè leggeva le scritture, pregava continuamente, sapendo che bisogna pregare in disparte, quasi quasi in silenzio, senza interruzione. e, diciamo, non lasciava cadere nulla a terra di quanto vi è scritto, cioè ricordava tutto, la memoria stava per lui al posto dei libri, scrive Etanasio. Quindi è un grande ammaestramento, che Antonio recepisce immediatamente e fa proprio. Quindi nel giro di pochi mesi lui diventa una figura nota e è amata da tutti, va a visitare le persone che hanno bisogno, è uno che parla bene di tutti, ecco, a questo grosso dono, per cui da ognuno apprende qualcosa l'amabilità, non solo dai monaci, ma si arricchisce spiritualmente, diciamo, di esperienze comunitarie, sempre intorno al proprio villaggio. non vuole mai apparire secondo nessuno nel fare il bene, diciamo così, non ha mai alcun spunto di tipo polemico, di tipo conflittuale, quando deve in qualche modo correggere, lo fa con gentilezza, lo fa con cortesia. e tutta la gente del villaggio inizia a volerli bene e a chiamarlo amico di Dio, amico di Dio. E tutto il villaggio lo ama come un figlio, o come un fratello, o come un padre, a seconda delle generazioni. E qui, intorno ai 20, 20, 22 anni di età, Atanasio ci racconta che il diavolo inizia a tentarlo. invidioso di questa bontà, di questa solidarietà umana e comunitaria che Antonio manifestava nel suo percorso di ascesi, che però non era un ascesi passiva, ma era un ascesi che contemplava anche, appunto, visite a poveri ed ammalati, a persone bisognose di un consiglio, di un ammaestramento spirituale, e inizia a tentarlo. E quindi, anzitutto, cerca di stoglierlo dal percorso ascetico. Quindi col solito sistema, che conosciamo bene, che è quello anche che è presente nel Vangelo, di suggerirgli, ispirargli il ricordo delle ricchezze, il rimorso per aver lasciato la sorella, l'affetto per la gloria, il piacere di un cibo raffinato, insomma, i godimenti della vita. Ecco. E il diavolo inizia a suggerirgli, diciamo, nella mente, una grande tempesta di riflessioni, di pensieri, no? perché vuole distoglierlo dal suo percorso ascetico. Però il diavolo si rende immediatamente conto della propria debolezza, perché Antonio lo piega utilizzando quelle armi. Dice una cosa interessantissima. Attanasio dice che addirittura il diavolo cercò di confidare in quelle armi che si trovano apud ombelicum, presso l'ombelico, quindi è chiaro che ci sono anche delle tentazioni di tipo erotico. Quindi assale Antonio turbandolo di notte, molestandolo, inducendolo a pensieri impuri, che è evidentemente l'allusione alla sfera sessuale, no? Ma Antonio, diciamo così, piega totalmente il diavolo dando forza con la fede, con i digiuni, con la preghiera a qualsiasi azione diabolica. Tanto che a un certo punto Satana assume le sembianze di una donna bellissima che cerca di sedurlo, ma anche qui gli va molto, molto, molto male. E quindi in qualche misura c'è una vergogna del nemico, cioè dice Attanasio il diavolo se ne esce veramente deriso, no? Proprio lui che pensava di farlo simile a una, come dire, a un itinerario di perdizione viene invece lui deriso, lui diavolo deriso da un ventenne che si gloriava di rinunciare a tutto ciò che gli veniva proposto e di rivestirsi di spirito e di preghiera. E quindi la vittoria sul diavolo diventa quasi una sorta di umiliazione del diavolo stesso. E quindi esce vincitore nella sua prima lotta col nemico e devo dire che Attanasio sottolinea un aspetto molto interessante che è molto utile per esempio nella pratica esorcistica, che è quella della tecnica del dialogo, della metodologia del colloquio col diavolo. Perché Antonio gli fa una serie di domande imbarazzanti per snidarlo, per porre in evidenza le contraddizioni del discorso del nemico. E a un certo punto prova proprio a ridicoleggiarlo. Cioè gli dice tu sei nero nell'animo e debole come un ragazzo. Io non ho alcun motivo di preoccuparmi per te, cioè per le tue azioni, per le tue tentazioni. Il Signore è il mio aiuto e io disprezzerò i miei nemici. Quindi questa è diciamo a un certo punto il diavolo dice la biografia di scappa. scappa svergognato e spaventato da quelle parole. E quindi questa è la lotta che Antonio riporta contro le forze diciamo demoniache e tuttavia il diavolo non è che poi smette di tendergli delle insidie. Gli sta continuamente intorno cercando l'occasione più propizia per salire. Antonio però continua a studiare apprende dalle scritture e continua nel suo percorso diciamo più risoluto ancora di ascesi e quindi impara ancora di più le tecniche contro gli inganni demoniaci e riduceva in qualche modo dice Antanasio il suo corpo sempre più a un regime di vita come dire duro ecco sempre più sempre più faticoso dormiva pochissimo vegliava così a lungo che spesso passava tutta tutta la notte senza prendere senza prendere sonno e devo dire destava ammirazione tra coloro che vedevano questa esperienza perché non è che lo facesse una sola volta ma due tre volte alla settimana quindi vegliava dormiva pochissimo e mangiava una sola volta al giorno mangiava dopo il tramonto subito dopo il tramonto del sole un po' di pane un po' di sale e chiaramente beveva solo acqua e quindi è superfluo parlare nel caso di Antonio di carne e di vino perché questo è una delle caratteristiche che poi struttureranno le regole monastiche in qualche modo l'utilizzo della carne e del vino nell'alimentazione è sempre visto con una certa diffidenza si coricava sulla nuda terra non aveva nemmeno una stuoia ogni tanto veniva gli veniva offerta una stuoia da qualche amico dava maestramenti rispetto alla modestia di vita diciamo e all'insegnamento di abituare comunque il corpo sempre più intensamente progressivamente alle fatiche ricordando le famose parole di San Paolo quando sono debole allora sono forte ecco questo era quindi quando il cuore acquista una forza si indeboliscono tutti i piaceri del corpo e quindi anche l'azione della fatica viene in qualche modo controllata la via diciamo della virtù è il ritiro dal mondo è una essenzializzazione dei bisogni dei bisogni naturali dei bisogni dei bisogni materiali che non vanno misurati in base al tempo ma ma in base al desiderio e alla decisione quindi l'intenzione vince qualsiasi forma di sforzo di fatica di difficoltà di diciamo temperie temperie corporale ecco un po' incentrata su Elia sul profeta Elia quando dice di non misurare tanto il tempo trascorso cercare ogni giorno come se fosse l'ultimo di presentarsi a Dio con cuore puro pronto a obbedire alla sua volontà e a nient'altro quindi la scelta deve imparare a regolare a ordinare la propria vita guardando a quella di Elia come uno specchio però questo non vuol dire non confrontarsi non dialogare con la comunità ecco questo è molto questo è molto interessante a un certo punto intorno ai 30 anni si ritira si ritira in un in un'area diciamo cimiteriale c'era un'area in cui c'erano dei sepolcri abbastanza lontano dal villaggio questo era un po' il costume egizio del terzo secolo entra in un sepolcro si chiude dentro e rimane lì dentro solo e qui c'è il famoso episodio del diavolo che cerca di entrare in una moltitudine di demoni perché temeva che a un certo punto tutto il deserto egiziano diventasse una città di ascetti cioè temeva che questa esperienza si propagasse questa esperienza antoniana si si propagasse tra la gente e quindi a un certo punto c'è un attacco dove viene percosso dove viene diciamo picchiato selvaggiamente da questa schiera di demoniaca ma il signore che non distoglie mai il suo sguardo da quanti sperano in lui lo salvò gli portò degli amici che lo curarono che gli portarono da mangiare e addirittura qui c'è un episodio in cui lui viene portato poi sembra morto viene portato nella piazza del villaggio ma a un certo punto si sveglia e torna nel suo sepolcro e poi c'è una serie di episodi in cui lui torna appunto viene riportato e viene in qualche modo risposto agli attacchi dei demoni c'è un leone un demone che assume le sembianze di un leone che cerca di aggredirlo la stessa cosa fa un lupo insomma c'è tutto un furore di apparizioni che dura diversi anni che consolida però in lui questa come dire tolleranza per le sofferenze fisiche ma questo controllo spirituale della mente dell'anima è soprattutto una cosa fondamentale che è la derisione e cioè che a un certo punto lui si prende gioco di questi di questi attacchi e dice se voi veramente aveste potere non dovreste venire qui in tanti basta sarebbe sufficiente che ne venisse un solo ma il signore vi ha reso impotenti per questo cercate di spaventarmi venendo in tanti quindi è un segno della vostra debolezza il fatto che voi imitiate le forme di bestie che sono prive di ragione ecco e quindi se avete forza se voi aveste veramente qualche davvero qualche potere su di me assalitemi pure ma se non potete perché state tanto a insistere la fede nel signore per me è un muro di difesa quindi dopo molti tentativi questi demoni si rendono conto che li sta prendendo in giro li sta deridendo e negli anni successivi c'è una c'è un percorso di 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 consolazione il signore gli appare diverse volte gli dice che sta che sta al suo al suo orecchio e al suo cuore alludire ovviamente questi segnali questi segni divini Antonio rafforza ancora di più la preghiera e poi a 35 anni assume la decisione fondamentale parte per il deserto parte per il deserto c'è qualche attacco ancora devoniaco e lui si stabilisce in un piccolo diciamo fortino abbandonato che probabilmente era stato una una sorta di avamposto militare qui c'è ancora una serie di aggressioni da parte di dei demoni una serie di incubi tante volte viene viene trovato che sembra già cadavere sembra morto invece lui si risveglia sempre recitando il salmo famoso sorga Dio i suoi nemici si disperdano siano scacciati dal suo cospetto quelli che lo odiano si dileguino come si dilegua il fumo come fonde al fuoco la cera così periscano i peccatori davanti a Dio tutte le genti mi hanno circondato nel nome del Signore mi sono vendicato di loro ecco recitando questo salmo lui in qualche modo risorge da questo stato di morte apparente che colpisce negativamente tutti gli abitanti diciamo di quest'area desertica che lo vedono sempre così diciamo immobile per terra dopo questi combattimenti furiosi con queste forze demoniache diciamo che ci passa vent'anni in questo questo fortino in questo deserto e però ormai la sua fama è nota quindi lui diventa un po' il padre spirituale di tutti i monaci della regione quindi intanto si erano costituite dell'imitazione di Antonio una serie di gruppi diciamo ascetici e lui a un certo punto viene pregato di tenere una catechesi ecco un grande discorso un grande discorso in egiziano per diciamo così in qualche modo regolare ordinare le esperienze di questo gruppo di monaci che intanto si era si era costituito quindi siamo intorno diciamo al 290 300 ecco siamo in quella quell'epoca lì lui esorta ovviamente in questo grande discorso ad abbandonare tutto in vista del regno in vista delle cose delle cose ultime le sofferenze del presente la miseria del presente non è non è paragonabile alla gloria futura che ci dovrà essere rivelata e quindi questo discorso viene visto un po' come un discorso diciamo di ricapitolazione di riepilogo un po' come il discorso della montagna di Matteo 6 una sorta di sinossi di riepilogo generale delle diciamo dinamiche con cui Antonio diciamo consolida questa questa sua via diciamo la salvezza attraverso l'abbandono l'abbandono di tutto ecco e qui c'è anche quella famosa diciamo esortazione a vivere come se ogni giorno fosse l'ultimo ecco che molte tante volte abbiamo sentito e che che invece proprio nelle parole di questo discorso di Antonio Attanasio ce le ce le ce le spiega letteralmente ogni giorno quando ci svegliamo dobbiamo pensare che non arriveremo mai fino alla sera e di nuovo al momento di coricarci dobbiamo pensare che non ci sveglieremo più la nostra vita è incerta per natura ed è misurata giorno per giorno dalla divina provvidenza e se ci comporteremo così e se vivremo giorno per giorno non proveremo desiderio di nulla non peccheremo non ci non ci addireremo non saremo dominati dalla concupiscenza diciamo così avremo la dolcezza del del piacere e la salvezza diciamo dell'animo perseverando perseverando nella virtù e quindi questo discorso questo messaggio di diciamo di Antonio tenuto a questa prima comunità di monaci egiziani tra il 290 e il 300 305 dopo Cristo diventa immediatamente un manifesto contagioso per tutto il monachesimo orientale che inizia a svilupparsi con qualche decina e poi con qualche centinaia di monaci in Egitto in Siria e diciamo così diventa un po' una sorta di qualche modo di compendio della teologia spirituale di di Antonio che riflette soprattutto su su Giobbe sulla storia di Giobbe no? Sapete che il libro di Giobbe è uno dei più controversi dal punto di vista teologico abbiamo una spogliazione progressiva di tutti i beni della vita con un accordo tra Dio e in qualche modo la suggestione satanica per cui Giobbe viene indebolito nella salute nella famiglia nella dispersione di tutte le sue diciamo così risorse economiche viene colpito da un'ulcera maligna e quindi qui c'è una riflessione interessante di Antonio perché diciamo così Satana non avrebbe potuto fare tutto ciò se Dio non lì l'avesse permesso quindi qui si affronta in modo molto convincente il tema della permissione divina del male indica poi indica poi Antonio una serie di armi che sconfiggono il demonio e anzitutto il non averne timore quanto più il diavolo ci importuna tanto più dobbiamo intensificare la nostra ascesa e la nostra preghiera contro di lui una vita retta e la fede sono due armi invincibili contro il diavolo il diavolo teme le veglie teme la preghiera teme l'amitezza teme la 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 quiete no quell'esichia famosa di cui abbiamo parlato nella lezione sull'esicasmo teme l'umiltà teme l'amore teme le opere di misericordia teme la dolcezza e specialmente il diavolo teme la fede in Cristo per questo diciamo il salvatore ha concesso ai credenti la grazia contro i demoni quando ha detto ecco il famoso episodio evangelico che abbiamo che abbiamo visto durante la lezione sull'esorcismo ecco io vi ho dato il potere di calpestare i serpenti e gli scorpioni e ogni potenza del nemico quindi il discernimento degli spiriti i segni della presenza degli spiriti malvagi ecco anche qui c'è una certa come dire semeiotica che lui tratteggia per capire quando vi sono spiriti malvagi che insidiano un'anima e quindi come scacciarli e poi abbiamo diciamo dal da questo da questa esperienza ascetica del deserto dopo la persecuzione dell'imperatore massimino c'è una scelta importantissima di Antonio che abbandona questa questa condizione di vita nel deserto e va ad Alessandria lascia la sua dimora diciamo ascetica e va anche lui ad affrontare in quel momento ad Alessandria c'era un notevole subbuglio perché c'era stata una sorta di involuzione piuttosto spregiudicata i cristiani cominciarono ad essere torturati ad essere in qualche modo discriminati ma lui se ne preoccupò talmente poco che se ne andò in un fece una sorta di provocazione si andò davanti al tribunale di Alessandria e si fece apertamente vedere dal prefetto consapevole del fatto che avrebbe potuto essere arrestato imprigionato torturato e probabilmente ucciso anzi lui pregò il prefetto di subire anche lui il martirio il prefetto con devo dire con un notevole imbarazzo cercò di cercò di di evitare in tutti i modi di polemizzare con Antonio e anche perché probabilmente temeva proprio che sarebbe diventato un esempio un martire che avrebbe ulteriormente complicato le cose alla diciamo struttura diciamo imperiale romana la burocrazia l'alta burocrazia militare romana cessa la persecuzione imperiale il vescovo Pietro il famoso beato Pietro di Alessandria subisce il martirio diciamo Antonio si ritira nuovamente ormai abbastanza anziano si ritira nuovamente nel deserto qui ci sono una serie di episodi guarigione delle indemoniate c'è una c'è una c'è un episodio in cui lui si stabilisce nella Tebaide anche qui però ha molti nemici molti molti cristiani si sono hanno abbandonato la fede lui viaggia per tre giorni e tre noti giunge a un a un monte altissimo che definito il monte il monte interiore no? perché è un monte che in qualche misura ha una grossa valenza simbolica metaforica no? e lì si stabilisce e vive appunto c'è questo questo capitolo della vita di Antonio sul monte ormai ha 60 anni 70 anni gli portano diciamo una volta al mese da mangiare gli portano un po' di olive un po' di legumi un po' di olio lui continua a fare cose veramente degne di di meraviglia perché continua ad anziano a subire continuamente tentazioni demoniache attacchi dei demoni attacchi di animali lui è protettore degli animali per cui capite questa sorta di enantiodromia tra gli attacchi continui che lui subisce dagli animali e il fatto che lui sia invece innamorato del mondo animale e diventi poi il difensore più accanito anche simbolicamente degli animali e oggi anche nella cultura occidentale e nel cattolicesimo il patrono degli animali domestici in esito diciamo a tutte queste lotte contro i demoni ci sono due episodi interessanti c'è un episodio in cui veramente i demoni si arrendono ecco si dichiarano in qualche modo sconfitti e Antonio ottiene da Dio un miracolo che l'acqua l'acqua nel deserto c'è una carestia terribile migliaia di persone rischiano di morire ma il Signore fa sgorgare l'acqua là dove Antonio si era fermato a pregare così vengono salvate migliaia e migliaia di persone vengono riempiti gli otri si alimentano nuovamente i i cammelli e quando la notizia si sparge decine decine di monaci vanno a visitarlo monaci malati lui è protagonista di una serie di episodi miracolosi guarisce peraltro un altissimo funzionario del delegato dell'imperatore romano frontone frontone il quale miracolosamente viene viene guarito e poi c'è tutta una serie di episodi che diciamo così lo vedono protagonista di diciamo visioni ecco di visioni dove lui insomma vede le anime salire salire in cielo questo è molto interessante guarisce tutta una serie di indemoniati ecco c'è una tecnica di esorcismo che viene utilizzata qui siamo già arrivati intorno al 320 330 30 dopo c'è tutta un elenco impressionante di guarigioni ma soprattutto dal punto di vista teologico c'è questa capacità di vedere le anime che salgono in cielo esseri che sembrano alati e salivano in alto e questa questo tipo di visione influenza moltissimo diciamo soprattutto gli eretici gli scismatici meleziani gli ariani in quel periodo non era ancora chiara la diciamo vittoria definitiva no sull'arianesimo e certo c'era stato c'erano stati concili importanti però non era ancora ben definita la vicenda lui peraltro era stato in qualche modo anche avvicinato dagli ariani perché gli ariani volevano portarlo un po' dalla loro parte anzi dicevano che tutto sommato Antonio aveva le loro stesse idee però lui continuò a insegnare al popolo che il figlio di Dio non può essere una creatura che non è stato creato da nulla ma che è il verbo il logos eterno della sapienza della sostanza del padre perciò è un'impietà dire vi fu un tempo in cui non esisteva perché il verbo è sempre esistito insieme al padre questo è un po' il cuore teologico quindi lui diciamo prende una posizione molto molto dura contro questi ariani che cercavano un po' di portarlo nel loro campo qui dal 330 in poi c'è una vera diciamo acclamazione popolare c'è una diffusione straordinaria della figura e del pensiero di Antonio arrivano dappertutto per conoscerlo per chiedere un consiglio per chiedere una guarigione bisogna dire che a un certo punto lui invita i pagani a convertirsi a leggere le scritture rimprovera ai pagani di adorare le creature le cose materiali in luogo del creatore e qui elabora una teologia molto raffinata e cioè che più i cristiani sono perseguitati e più la loro fede si diffonde cioè è il sangue dei martiri che è fusione diciamo della fede la cosa interessante è che riceve nell'ultima parte della sua vita molte lettere da grandi figure dell'impero romano addirittura da due da due da due imperatori Costanzo Costantino i due figli di Costantino Costanzo e Costante gli scrivevano come si scrive a un padre lui bisogna dire che non rispondeva ecco non rispondeva a un certo punto dette anche una spiegazione dice ma voi vi meravigliate che io non rispondo se mi scrive un imperatore l'imperatore è un uomo gli imperatori devono amare la giustizia i poveri e la fede come Gesù ecco e quindi tende un po' a come dire sottovalutare questi rapporti con questi tre con queste tre figure imperiali l'ultima parte della sua vita è che lui diventa una sorta di consulente di tutti giudici diciamo così funzionari funzionari imperiali lui difende la necessità comunque della solitudine l'importanza della solitudine lui dice per esempio la solitudine è l'unica cosa con cui noi possiamo dimenticare le cose esteriori e quindi avvicinarci a Dio attraverso la valorizzazione delle cose interiori fa alcune profezie molto molto importanti ormai tutti lo amano come si ama un padre un saggio un consigliere un grande diciamo così benefattore prende una posizione molto dura contro le usanze funerarie degli egiziani e e poi c'è questo tema per cui lui intorno al 352 353 quindi un anno prima della morte ci sono le ultime sue parole che vengono in qualche modo scritte da 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 Atanasio che tra l'altro nel testamento diciamo delle poche cose di Antonio ecco c'è anche il vescovo Atanasio gli lascia la la sua veste di pecora no e c'è questa sorta di testamento spirituale spirituale lui viene viene diciamo così quest'ultimo ritratto della fine della vita di Antonio della carne e diciamo così diventa una sorta di leggenda si sparge la voce in tutto l'Oriente e quindi la sua morte diventa un ulteriore come dire veicolo di diffusione del suo stile di vita di in qualche modo di predicazione fino in Spagna fino in Gallia in Roma in Africa si sente parlare di lui e quindi Atanasio conclude dicendo imparate a seguire la via di Antonio e convincetevi che il nostro signore Gesù Cristo glorifica chi lo glorifica e rende noti e celebri ovunque a motivo della loro virtù anche se restano nascosti se vivono in solitudine se vogliono diciamo così condurre una vita appartata e le parole finali di Atanasio sono sono molto interessanti io ve le leggo proprio letteralmente leggete queste cose anche ai pagani affinché almeno così riconoscano non solo che il signore nostro Gesù Cristo è figlio di Dio ma anche che quando lo servono con cuore sincero e credono in lui con fede vera provano che quei demoni ritenuti dei dai pagani non sono affatto dei anzi i cristiani li disprezzano li calpestano e li scacciano come ingannatori e corruttori degli uomini per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore ecco questa è un po' la vita di Antonio raccontata dal suo diciamo biografo ufficiale più fedele più importante quindi Atanasio di Alessandria nella prossima video lezione approfondiremo ancora di più i temi del monachesimo orientale dopo la morte di Antonio e diciamo come questo condiziona influenza la nascita del monachesimo in in occidente qui e qui Grazie a tutti.